il celebre artista italiano fedez ha fatto ritorno a casa e l'accoglienza che ha ricevuto è stata semplicemente emozionante i suoi due piccoli tesori leone e vittoria lo hanno accolto con entusiasmo e affetto genuino i bambini avevano preparato dei teneri disegni per il loro amato papà pieni di colori vivaci e messaggi affettuosi quando fedez ha varcato la soglia di casa è stato sommerso da bracci affettuosi che trasmettevano tutto l'amore e la gioia che i suoi figli provano per lui fedez ha scelto di condividere questi preziosi momenti disteso a terra insieme ai suoi piccoli creando un'atmosfera di intimità e calore familiare questa accoglienza travolgente sottolinea quanto sia importante per lui il suo ruolo di padre e quanto tenga la sua famiglia in un mondo frenetico questi momenti di affetto e amore familiare sono veramente speciali